La Lega sono io, che non voglio più scegliere tra destra e sinistra, o tra nord e sud, ma chiedo indietro le chiavi di casa mia. Oggi, più che mai, voglio essere artefice del mio futuro. Si può stare nell'Unione Europea anche senza l'euro, come avviene in Gran Bretagna, in Svezia, in Danimarca, dove si sta molto bene. Tutti insieme, un'altra Europa è possibile. Grazie a tutti.